Le iniziali di Wolfgang Amadeus Mozart formano la parola WAM, una parola che non ha un significato ma un suono. Fa pensare una vampata da un'immagine di potenza e al tempo stesso è uno scherzo. Mozart fu vampata, potenza, scherzo e molto altro ancora. Lui stesso giocava coi suoi nomi e li capovolgeva presentandosi come il signor Trasom e come Nianc Flow. Talvolta abbreviava il cognome in Wunst o lo italianizzava in De Mozartini. Quando aveva già superato i trent'anni gli piacque attribuirsi il nomignolo di Punki Tititi. In una lettera del 24 luglio 1787 e forse in altre occasioni accadde anche a lui di firmarsi con l'esplosiva sigla di WAM. Mozart fu grande anche perché sapeva divertirsi. Possedeva in sé tutti gli stati d'animo che la musica è in grado di esprimere. L'ironico e il tragico, il giocoso e il doloroso, il passionale e il distaccato, l'angelico e il demoniaco. Lavorò sempre con grandissimo impegno. Taluni credono che la musica gli uscisse di getto quasi spontaneamente grazie al suo genio. In realtà Mozart fin da bambino si esercitò ogni anno per migliaia di ore. E se più tardi poté comporre velocemente molte pagine straordinarie? Ciò dipese dall'esperienza faticosamente conquistata, dalla capacità di pensare alla musica anche prima di scriverla e dalla sua eccezionale memoria. Nonostante la brevità della sua vita, riuscì a produrre più di 20 opere teatrali, più di 40 sinfonie, una trentina di concerti per pianoforte e orchestra, una ventina di messe, un centinaio di altre composizioni per pianoforte, più di 200 danze, una settantina fra quintetti, quartetti, tri, duetti. E come se non bastasse, scrisse un numero assai grande di arie, divertimenti, canoni, serenate, composizioni sacre e massoniche. Concerti per violino, flauto, clarinetto, oboe, fagotto. Rinunciamo a calcolare il totale delle sue composizioni. Il catalogo Kugel, grazie al quale le musiche di Mozart sono contrassegnate da una cappa e da un numero, ne elenca 626. Abbastanza spesso tuttavia, come ad esempio nel caso delle danze, delle contraddanze e dei minuetti, numerosi pezzi sono stati raggruppati sotto un solo numero. Alcune composizioni di Mozart per di più sono andate perdute. E ovviamente si sono perse tutte le sue improvvisazioni concertistiche per le quali era famoso. Visse meno di 36 anni e anche le sue spoglie mortali sono andate perdute. Ma la sua musica e il suo mito ci accompagnano ancora oggi. E anzi oggi più che mai. Grazie. Grazie. Grazie a tutti